Ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi devo dire un paio di cose Allora, come prima cosa devo dirvi che dovrò cambiare canale, l'ho già creato, si chiama Surreal Power E' un nick un po' modificato, la L è una I maiuscola perché Surreal Power era già occupata, non si sa da chi Allora, da domani, domenica 11 novembre 2012, quello sarà il mio canale principale, tutte le serie le caricherò lì Sarà il mio canale, da domani infatti caricherò i soliti due video al giorno, si spera riuscirò a farlo E domani in particolare ci saranno due video di Techit col tubo, la nuova stagione, con le nuove regole e tutte le cose del caso Perché ho dovuto cambiare canale? Allora, come voi sapete io sono stato un anno partner con TGN E quando sono entrato in TGN il mio account non aveva problemi L'unico problema che ho avuto durante la mia partner con TGN è stato uno strike per spam Perché io caricando i video annunci in cui dicevo guarda sto facendo un live su Twitch Me l'hanno segnalato come spam, YouTube me l'ha tolto come spam, non si sa perché aveva voglia Però non avevo problemi E quando sono entrato in TGN il mio account era lindo Ok? E sono uscito due giorni fa che la mia tab della monetizzazione, cosa che tutti gli account hanno ora Se voi andate su monetizzazione potete riempire il modulo per la partner diciamo Ed è un fatto un po' triste insomma Io sono uscito da TGN e la mia tab della monetizzazione è stato disattivato Perché? Perché io questo account Google, quindi l'account Google associato a The Surreal Power Lo usai a mio tempo nel vecchio canale X Surreal Power Per prendere una partnership diretta con YouTube Ora io in questa partnership utilizzavo Adblock Perché non volevo che la mia partnership si volatizzasse Perché avevo l'esempio di Zeb che aveva perso la partnership per coppare dei click invalidi Così da un giorno all'altro scopro che anche il mio account è stato bannato per click invalidi Quando io in realtà stavo con Adblock proprio per evitare spiacevoli interventi Però è una cosa che succede quando c'è qualcuno che si accanisce contro un canale E fa spam di click sugli annunci E YouTube, in generale Google, è obbligato a terminare tale account È ingiusto ma lo capisco da un punto di vista commerciale E quindi è successo che, uscito da TGN, mi ritrovo con questa tab disattivata Parlo con i gestori di TomSard per farmi attivare la partnership Mi dice, eh guarda il CMS mi dà un errore E mi dice che non può essere attivata su questo account Perché l'opzione monetizzazione è stata disattivata Perché potrebbe generare traffico illecito o qualcosa del genere Allora io ho collegato tutto dall'anno scorso Mi sono fatto tutto il mio filmino mentale E mi hanno spiegato che è una cosa che YouTube ha cambiato tipo due mesi fa O tre Un paio di mesi fa insomma Ehm Ora è rigido Se tu hai un problema con la monetizzazione Con un vecchio account AdSense Sei fregato Non puoi più monetizzare i tuoi video La cosa strana è che con TGN ho continuato a farlo fino a due giorni fa Ma fa niente Fa niente perché i video resteranno Anche se non sono monetizzati Quindi tranquillamente Non li trasferisco sul nuovo canale solo per guadagnarci soldi Li rimango qui tranquillamente Se volete vedere i vostri video potete farlo Non li oscuro né niente Il canale rimane così com'è Senza partner ma rimane così com'è Invece io mi trasferisco su questo canale Eh Trasferisco su questo canale In cui ho la partnership di TomSard Che gentilmente mi hanno già attivato Ho fatto giusto giusto un paio di annunci a questo canale E ho già di più di 1000 iscritti Spero ovviamente che anche tu Che mi stai ascoltando in questo momento Se ti piace la mia persona Se ti piace il modo in cui commento i miei video Se ti piacciono i miei video Spero che tu possa andare lì e ti possa iscrivere Domani usciranno già i nuovi video Quello sarà il mio canale attivo Dunque Cos'altro dire Grazie ancora per tutto il supporto che mi date Sono un po' contento per il dispiaciuto Diciamo per il malessere che si è formato Con la storia di ieri Ragazzi È tutto successo Da vostri malintesi Diciamo Gente che accusava Luke Gente che accusava Vrente Gente che accusava Nabazzo Nabazzo I fan di Nabazzo accusavano me Poi accusavano Vrente Poi accusavano Luke Tutta una catena così di eventi Fap 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 Solo Vrente Capisce ste fappate Perché lì Fap 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 Ok Quindi Per questo video è tutto Il canale è in descrizione E anche nei canali consigliati Credo Spero di metterlo in tempo Quindi sì Io vi saluto Ciao Tutte Fap